Grazie a tutti. Chiuso per lavori il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori di pavimentazione è chiuso lo svincolo di Taverne d'Arbia in ingresso e in uscita in direzione Bettolle. A Firenze ricordiamo che per lavori in Piazza Gaddi chiusura della rotatoria nel tratto tra Via Devanni e Via Bronzino. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti.